Ringrazio il Presidente Menotti Lippolis per l'invito e saluti partecipanti, a cominciare dalle autorità, scusandomi di non poter essere con voi in occasione del vostro ottantesimo anniversario. Il tessuto imprenditoriale di Brindis, con le vostre 350 aziende associate, è da sempre emblema di un sud industriale, dinamico e competitivo. Il vostro territorio esprime eccellenze nazionali e internazionali che vanno dall'industria manufatturiera all'energia, dall'agricoltura al turismo, con punte di eccellenza come l'industria aeronautica. L'aeroporto di Brindisi, con la sua storica funzione militare, ora sempre più vocato al trasporto civile, ha contribuito allo sviluppo della filiera, anche grazie alla stretta collaborazione tra pubblico e privato, con forti investimenti in innovazione e ricerca. Negli ultimi anni così Brindisi si è trovata ad affrontare importanti sfide, in particolare legate alla necessità di superare modelli inquinanti e alto impatto ambientale. La centrale a carbone di Cerano, per anni simbolo di inquinamento, si prepara alla chiusura prevista entro il 31 dicembre 2025. A Brindisi, il nostro obiettivo è chiaro, trasformare la dismissione in opportunità di crescita. Abbiamo reso operativo il comitato di coordinamento fortemente richiesto dal territorio per sviluppare un programma industriale in grado di creare valore e mettere in sicurezza gli occupati diretti e dell'indotto. Il 20 settembre scorso ci sono stati presentati 13 progetti di investimento che daranno nuova linfa al territorio, coinvolgendo settori strategici come l'eolica offshore, la produzione di paleoliche e batterie. Con il supporto di Invitalia stiamo predisponendo un piano industriale che sarà parte di un accordo di programma. Il sito della centrale di Cerano non sarà solo chiuso ma rigenerato per ospitare nuove realtà industriali innovative e sostenibili, prevedendo percorsi di riqualificazione dei lavoratori. E di questi giorni la notizia di un nuovo progetto di sviluppo per il polo chimico riconvertito alla produzione di batterie con investimenti per 2 miliardi di euro. Anche in questo caso sarà garantita la salvaguardia degli attuali tassi occupazionali con la previsione di aumenti graduali di assunzione. Un altro segnale forte del nostro impegno a trasformare il Sud Italia in protagonista della rivoluzione green, della rivoluzione green e della contemporanea rivoluzione digitale. Sono certo che Brindisi si confermerà un centro industriale di eccellenza improntato alla sostenibilità e alla innovazione. Lavoriamo tutti insieme, istituzioni, imprese e associazioni affinché questo obiettivo si realizzi, garantendo al territorio nuove opportunità di lavoro e sviluppo per le prossime generazioni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro a tutti buon lavoro.